Questo per una volta non è un video per gli studenti e mi dispiace ma tocca così dopo migliaia di video per chi studia, che hanno ormai raggiunto decine e decine di migliaia di persone negli anni, ho deciso che oggi farò qualcosa di diverso. Questo è un video dedicato a chi invece ha fatto dell'insegnamento il suo lavoro, a chi si siede ogni giorno dietro a una cattedra o visti i tempi dietro alla webcam di un computer e trascorre le sue giornate a veicolare ciò che sa a ragazzi e ragazze, a spiegare a rispiegare, a valutare, a supportare, a istruire. A chi ha l'obiettivo di rendere lo studio dei propri studenti più efficiente possibile, di lasciare loro qualcosa che resti nel tempo, di rendere il loro rapporto con il percorso dell'istruzione tutto il più proficuo, ricco e stimolante possibile, dalle scuole elementari fino all'università. Tu che mi stai guardando e che insegni lungo il percorso dell'istruzione, condividi con me che invece insegno dai social network un problema, il problema del metodo di studio. Sì perché a scuola purtroppo, fatte eccezioni per le iniziative individuali di qualche insegnante o dirigente scolastico illuminato, il tema del metodo di studio è poco più che accennato quando va bene, del tutto ignorato quando va male. Chiediamo agli studenti di studiare, di studiare, di studiare un anno dopo l'altro, sempre di più e a un livello di difficoltà sempre maggiore. Li lasciamo però senza una guida precisa sul come farlo, su come fronteggiare davvero lo studio. È venuto il momento di cambiare le cose e allora oggi, in questo video, ti darò quattro consigli pratici per insegnare il metodo di studio ai tuoi studenti. Partiamo con il definire che cosa significa il metodo di studio perché non è poi così scontata come definizione. Io dal canto mio lo definisco così, quell'insieme di metodi, tecniche, strategie ed approcci che se applicati in modo organico facilitano e migliorano il processo di apprendimento. Insomma, per dirlo con altre parole, un arsenale vero e proprio che lavori in sintonia con lo studente, un meccanismo di precisione che supporti chi deve studiare in ogni momento del suo percorso senza mai lasciarlo preda dell'incertezza, dell'ansia, della frustrazione, della noia. Capito questo, e data per scontata ovviamente l'importanza incredibile che il metodo di studio riveste per il successo scolastico a tutti i livelli, il problema è che spesso gli insegnanti si ritrovano un po' in difficoltà nell'insegnarlo, un po' perché nemmeno a loro è stato insegnato a suo tempo un vero metodo di studio e un po' perché magari non c'è tempo, i programmi sono difficili da seguire, un po' perché i ragazzi spesso non hanno nessuna intenzione di collaborare. Non è facile, insomma, ma con il giusto approccio, i giusti stratagemmi e la giusta pazienza, si può realmente fare la differenza nelle vite di tanti, tanti ragazzi e ragazze. Partiamo con i quattro consigli. Via! Ecco, senza alcun dubbio, il primo è seguire la scienza. Imparare tu stesso ovviamente il metodo di studio prima di poterlo insegnare, ma assicurarti al tempo stesso di prendere le tue informazioni da fonti scientifiche e di evitare le fufferie che infestano il mondo della formazione. Quali fonti allora scegliere nello specifico? Beh, quelle delle scienze cognitive, della psicologia, della pedagogia, delle scienze insomma che hanno definito quali siano i principi che realmente funzionano e portano a risultati concreti nelle aule e nello studio a casa. È verissimo, infatti, non si discute che ognuno di noi sia poi diverso, studenti compresi, e che quindi ognuno debba sviluppare le proprie strategie personali che si adattino anche al proprio modo di essere, di pensare, ai propri gusti, al contesto e all'argomento specifico che si sta affrontando. Tuttavia, le strutture cognitive che sottendono al processo di apprendimento sono comuni. Che cosa vuol dire questo? Che siamo molto più uguali di quanto non siamo diversi e che la personalizzazione nel metodo di studio, pur fondamentale, dovrà arrivare poi, dopo aver consolidato per bene quei principi fondamentali ed essersi assicurati che gli studenti li applichino al meglio. Quali sono questi principi? Ce ne sono molti, a dire il vero. Il metodo di studio è un sistema complesso, ma direi che posso farti quantomeno un breve elenco di alcuni di quelli che fanno più la differenza. Numero uno, lo spacing. L'idea di distribuire l'apprendimento e non accumularlo invece il giorno prima di un'interrogazione o un compito in classe. Il che si traduce però nel concreto in un'ottima organizzazione. Lo studente deve essere organizzato, strutturare un piano preciso per i compiti e per la progressione dello studio, giorno per giorno, senza mai accumulare ritardi. Numero due, il principio della rielaborazione. L'idea di andare oltre all'acquisizione e alla comprensione degli argomenti, che pure sono ovviamente indispensabili, ma di fare proprio l'argomento, l'informazione, di trasformarlo, filtrarlo attraverso il proprio modo di pensare e di costruire collegamenti. Gli schemi in questo sono preziosissimi. E poi il testing. La pratica di consolidare i ricordi non rileggendo o riscrivendo, ma costruendo invece delle occasioni pratiche di recupero attivo. In una materia concettuale o discorsiva, il testing potrà prendere la forma di un quiz, domanda e risposta. In una materia invece tecnica o pratica, di un esercizio, come nel caso della matematica. Numero quattro, il ripasso programmato. Che altro non è che un'inversione totale del rapporto normale che gli studenti hanno con il ripasso. Non si ripassa più quando ci si è quasi dimenticati le cose. Quello in realtà è un ristudio. Bensì si comincia a ripassare da subito, dopo la fine dello studio, molto rapidamente, assicurandosi di non perdere mai le informazioni studiate in primo luogo. E poi, quinto, il coinvolgimento, l'attività. Lo studio non può e non deve mai essere passivo, ripetitivo. Deve al contrario sempre prevedere dei momenti di ricerca, di dubbio, di creazione, problemi da risolvere, domande a cui cercare risposta, attività da svolgere, critiche, confronti, stimoli. Questo in gran parte passa dal rapporto con il testo a casa e con la lezione a scuola. Si deve lavorare proprio sul rendere lo studente protagonista della sua lettura, del suo processo di studio, dei suoi appunti, invece che vittima di tutto questo. Ovviamente, dette così, sono solo parole. Ognuno di questi punti merita una trattazione ben più approfondita delle metodologie pratiche per essere poi applicata nella realtà scolastica e di insegnamento. Questi però volevano essere alcuni spunti per approfondire. Nel mio canale troverai centinaia e centinaia di miei video dedicati a tutto questo. Te ne lascio anche un paio a schermo qui se non sai da dove cominciare. A questo punto passiamo al secondo consiglio per insegnare metodo di studio. Che poi riguarda il come insegnarlo. La lezione frontale è sicuramente l'inizio, ma non può essere la fine dell'insegnamento, specialmente quando si vuole trasmettere qualcosa di pratico come il metodo di studio. C'è bisogno di mettere in campo almeno tre modalità diverse che voglio consigliarti. La prima è l'insegnamento diretto, che poi non è altro che quello che dicevamo, il tipo di insegnamento che normalmente si fa a scuola tutti i giorni. Una o più lezioni su un argomento, in questo caso il metodo di studio o una metodologia specifica di studio applicata. Tu impartisci delle nozioni, gli alunni, gli studenti ascoltano, si spera, prendono appunti e imparano. Forse. L'insegnamento diretto viene spesso un po' denigrato, forse perché è un po' vecchiotto, un po' passato di moda, ma resta in realtà un tassello imprescindibile di questo puzzle, insostituibile, specie quando si affrontano delle metodologie molto complesse. Può prendere però mille forme diverse. Non è che deve necessariamente essere una lezione ex cattedra poco dinamica, come dicevamo. Io stesso, con questo video adesso, di fatto sto facendo insegnamento diretto, così come lo faccio con i miei altri videocorsi, i miei video su YouTube, su Facebook, Instagram o TikTok, i miei articoli di blog lo stesso, il mio manuale lo stesso. L'insegnamento diretto, insomma, ci sta ed è importante considerarlo, magari pianificare dei momenti specifici per portarlo avanti nello svolgimento delle lezioni, sull'argomento metodo di studio in particolare. L'importante è capire come eseguirlo per catturare l'attenzione degli studenti. Poi c'è l'insegnamento indiretto, cioè l'insegnamento tramite imitazione, esempio, modello. Per metterlo in pratica si possono fare delle esercitazioni guidate in cui tu magari mostri come applicheresti una certa tecnica, un certo principio e si possono produrre anche dei materiali didattici integrativi, delle dimostrazioni, degli esempi. La cosa fondamentale quando si insegna in modo indiretto è non limitarsi a dare la pappa pronta, a dire agli studenti ecco, si fa così, ma di accompagnarli invece nel proprio percorso di ragionamento, chiedere loro che cosa avrebbero fatto, discutere, confrontarsi. Infine, la terza modalità, che poi è la mia preferita, è quella che chiamo l'insegnamento integrato, e cioè l'idea di portare gli studenti ad applicare le metodologie e le tecniche quasi senza accorgersene, fondendole ad altri compiti che avrebbero dovuto fare o rendendole implicite. Se io chiedo ad uno studente di svolgere un test di comprensione del testo, e gli chiedo anche magari di sottolineare le singole parole chiave spiegandogli come fare, lo sto portando al tempo stesso ad allenarsi sul paradigma della lettura efficace, senza bisogno di fargli fare un esercizio mirato in più che aumenterebbe il carico di lavoro. Allo stesso modo, se non lo svolgere un esercizio di matematica, chiedo a una ragazza, a una studentessa di realizzare un piccolo schema che descriva gli step dello svolgimento dell'esercizio, le sto facendo allenare anche la rielaborazione a mezzo schema, magari con una mappa concettuale. Insomma, ci siamo capiti. Come hai sicuramente inteso, nessuna di queste tre modalità è migliore dell'altra, così come nessuna delle tre è sufficiente. Sono tutte e tre necessarie, ma devono sempre essere portate avanti in parallelo, insieme, per garantire un risultato davvero eccellente, specie se si insegna a molti studenti allo stesso tempo. Il terzo consiglio è incoraggiare la metacognizione, cioè l'idea che lo studente rifletta sul suo stesso processo di apprendimento e lo monitori, ragionandoci sopra, sperimentando, discutendo, suggerendo delle modifiche, verificando lui stesso sul campo l'efficacia delle metodologie che gli vengono insegnate. Ho fatto un video qualche tempo fa proprio spiegando perché e come la metacognizione sia così importante per lo studio. Potresti anche andare a recuperartelo, te lo consiglio. In ogni caso, il punto è che un metodo di studio imposto dall'altro, magari anche super strutturato, rischia di diventare pesante, indigesto, specialmente per gli studenti più piccoli, magari dalle scuole medie ed elementari, e può finire per diventare un peso invece che un supporto. Per questo è necessario andare oltre l'imposizione e la strutturazione e stimolare invece un lavoro che veda l'insegnante come una guida che illumina la strada, ma che lascia al tempo stesso che a esplorare sia il ragazzo con i suoi tempi. E questo tra l'altro ci porta al prossimo consiglio, il quarto, l'ultimo. Procedere per gradi. Eh sì, un passetto alla volta, uno degli errori che spesso si rischia di commettere, io stesso l'ho commesso in passato sull'onda dell'entusiasmo, è di volere insegnare troppe cose e troppo in fretta, di volere rivoluzionare l'intero mondo dello studio degli studenti. E invece la strada migliore è quella che procede uno step alla volta, partendo dai principi generali e dalle loro applicazioni più semplici per arrivare pian piano a metodi sempre più complessi e articolati. Senza correre. Che la strada è lunga e se c'è qualcosa che mai e poi mai si deve fare è soverchiare i ragazzi eccessivamente, stancarli troppo, rendere la loro vita scolastica ancora più difficile di quanto già non lo sia, o portarli ad accumulare ulteriore stress. Come se non ne avessero già abbastanza. Man mano che il loro percorso scolastico si farà più complesso, man mano che cresceranno, man mano che avranno bisogno di strumenti di apprendimento più potenti, raffinati e al tempo stesso avranno consolidato le metodologie di base, si potrà salire fino ad arrivare alla vetta del metodo di studio ideale. Niente di tutto questo è facile, è rapido, è scontato, lo so, e tornerò in futuro su questi temi perché so anche che parecchi insegnanti hanno cominciato a seguirmi e penso che qualche video in merito sia necessario. Gli studenti ci perdoneranno. Ma sono qui anche per dirti che da oggi esiste una soluzione semplice, una soluzione semplice a questo puzzle dell'insegnamento del metodo di studio. Ho deciso di mettermi al servizio degli insegnanti e insieme alla piattaforma docenti e formazione specializzata proprio nei percorsi formativi e innovativi per gli insegnanti ho lavorato negli ultimi mesi per creare YES, come insegnare un metodo di studio efficace e scientifico. Un corso pratico, rapido, economico, completissimo, pensato per trasmetterti tutto quello che devi sapere sull'insegnamento del metodo di studio ai ragazzi. Ti aiuterà a comprendere tutti i principi fondamentali dell'apprendimento efficace, come metterli in pratica e come aiutare i tuoi studenti ad esercitarli e farli propri. È veramente un'occasione da non perdere. Dopo aver rivoluzionato con i miei corsi l'insegnamento del metodo di studio in Italia, partendo dagli studenti, adesso è arrivato il momento di aiutare gli insegnanti e anche i genitori a fare lo stesso. Entra in YES, faremo insieme la differenza. Ti lascio il link qui sotto in descrizione e te lo faccio anche apparire da qualche parte sullo schermo, così non te lo perdi. In ogni caso, vai a dare un'occhiata a che aspetto di sapere che cosa ne pensi e di sentire i tuoi feedback, consigli e suggerimenti. E per gli studenti che hanno voluto guardarsi comunque tutto il video, anche se non era dedicato a loro, beh, grazie comunque per essere arrivati fin qui. Ah, a proposito, presto farò uscire un video analogo a questo, ma pensato invece per i genitori, così che anche loro possano darci una mano in questa sfida. Io sono sempre Alessandro De Concini e questo è ADC 4.0. Ti parlo tutti i giorni su tutti i canali social di apprendimento, metodo di studio, cognizione e cultura. Noi ci vediamo domani per un prossimo video e in YES per insegnare il metodo di studio. A presto.